ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video che registro preventivamente ma che vi pubblico il giorno effettivo della finale quindi voi lo vedrete nella giornata di mercoledì sto viaggiando verso roma per andare ad assistere alla finale di coppa italia tra juventus e inter e ovviamente ragioniamo un attimo su quello che sta accadendo perché come avevo scritto anche nella giornata di ieri nella giornata di oggi mentre registro io credo che sia assolutamente folle ragionare su un binario che porta a sperare nella sconfitta della juventus quando si è tifosi della juventus lo so che già questo incipit dovrebbe spaventare i più c'è questo tormentone no della patente di tifo che non si può dare la patente di tifo io non mi permetto di dare la patente di tifo a nessuno io ragiono semplicemente su quella che è la definizione di tifoso e cioè persona che supporta e tifa per la squadra per cui batte il cuore io sono tifoso della juventus quindi tifo e supporto la juventus a maggior ragione in una finale di coppa italia che potrebbe darci l'unica speranza per alzare un titolo in una stagione maledetta e non interrompere quel cordone umbilicale di dieci anni di vittorie mi piacerebbe aggiungere un altro anno arrivare a undici stagioni consecutive in cui mi porto a casa qualcosa specialmente se la mia avversaria diretta è l'inter che non devo stare qui a spiegare perché avrei piacere a battere l'inter soprattutto perché in questa stagione loro ci hanno già battuto in finale si sono portati a casa una supercoppa soprattutto perché quest'anno non li ho mai battuti né in campionato né in supercoppa soprattutto perché l'ultima volta che li abbiamo incontrati in casa nostra hanno vinto loro per una zero in una partita giocata molto bene dalla juventus forse una delle migliori prestazioni stagionali e questa cosa ancora non mi va giù e qualcuno ovviamente butta in mezzo al carico il ragionamento che vede l'allenatore della juventus coinvolto in questa cosa e allora io vi dico ma siamo davvero convinti che sia logico ragionare su questi binari mi spiego meglio qualcuno è davvero convinto che la juventus stia ragionando secondo questo principio e cioè se vinco la finale di coppa italia confermo allegri se perdo la finale di coppa italia esonero allegri perché questo è il punto focale del discorso tanti 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 tifosi che sono contro allegri desiderano magari vedere la juventus perdere per far sì che poi venga allontanato davvero tanti in tantissimi me l'hanno scritto è ovvio che ce ne sono anche molti che per fortuna ho messo le mani avanti mi detto guarda io non sono soddisfatto di allegri spero che la juve vinca però se questo può portare all'allontanamento di allegri allora ben venga intanto non c'è una correlazione logica tra queste due cose quindi perdere domani la finale di coppa italia non è detto che poi venga esonerato allegri c'è anche una possibilità abbastanza concreta che in caso di sconfitta in finale di coppa italia comunque allegri venga riconfermato come c'è una possibilità per quanto mi riguarda ma l'ho già parlato in qualche video precedente secondo la quale domani vinciamo la finale di coppa italia e la juventus cambia allegri queste due cose non sono correlate in nessun modo quindi lasciamo stare questa cosa qui veramente concentriamoci sul fatto che sosteniamo la juventus in una finale di coppa italia contro l'inter proprio perché l'inter proprio per tutte le premesse che ho fatto e che domani dobbiamo vincere appunto non è che c'è da fare dei giri mentali allucinanti poi sono soddisfatto di questa stagione no sono soddisfatto di massimo giano allegri no sono soddisfatto di quella che poteva essere una stagione di ricostruzione e che invece è stato no 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 questa stagione della juventus lo dico proprio a gran voce è una brutta stagione la juventus ha disputato una brutta stagione se vinco la stagione la finale di coppa italia è una brutta stagione se perdo la finale di coppa italia è una brutta stagione in cui ho perso anche la finale di coppa italia la finale di coppa italia non sposta niente o quasi niente nel giudizio generale perché quest'anno doveva essere una stagione di ricostruzione che cosa abbiamo ricostruito io fatico a vedere cose da portarmi avanti nel futuro se non i singoli come l'anno scorso come l'anno scorso al termine la stagione l'anno scorso dico vabbè dovevamo provare a vincere però qualcosa cui reagrapparmi ce l'ho cio chiesa cio d'elite cio volendo anche meccenni quest'anno vi posso aggiungere cio vlaovic cio locatelli aggiungo altri giovani ma dall'anno scorso di concreto non ci siamo portati a casa niente quest'anno di concreto non ci portiamo a casa niente perché anche l'anno scorso la juventus di pirro ragazzi è arrivato a un punto che era un vicolo cieco la juventus del league quest'anno è un enigma tattico non abbiamo ancora capito chi sono i titolari non abbiamo ancora capito il nostro punto di forza i nostri punti deboli quindi questa stagione purtroppo è andata male così come è andata male quella dell'anno scorso ma di questo vi ho già parlato è stupido dire ma quella è andata meglio tra le due poi alla fine tiri il conti pirro due trofei te li ha vinti spero di vincere almeno uno ma la coppa italia e la supercoppa di pirro l'anno scorso ed eventualmente questa coppa italia ed allegri ma secondo voi salva le stagioni perché io l'anno scorso con coppa italia supercoppa non mi sono sentito proprio salvo il mio mood è stato di delusione profonda e quest'anno con la coppa italia senza coppa italia sarò ancora deluso ma almeno non vedrò festeggiare l'inter un altro trofeo il secondo stagionale il secondo in faccia a me ma stiamo scherzando stiamo dicendo davvero questa coppa italia assume importanza proprio perché la stagione è andata male perché se no quando si va bene quando si è sempre andati bene la coppa italia è sempre stata una finale che guardi con interesse in cui magari giocano anche le seconde linee io oggi la sento di più questa coppa italia perché perché la stagione è andata male perché non ho ancora vinto niente perché senza questa non vinco niente è perché ho mandato giù troppi magoni semplicemente è perché tipo per la juventus e non me ne frega niente di chi c'è in panchina ma non me ne è mai fregato niente non me ne fregherà mai niente non arriverò mai a tifare contro la juventus perché mi sta antipatico un tesserato della juventus e ve lo dico da persona che non è assolutamente soddisfatta del lavoro che ha fatto massimino allegri della stagione che ha fatto la juventus e con delle aspettative diverse da quelle che sono state poi mantenute in cui lo sapete ragazzi che serie a ancora una volta quarti wow è vero entriamo in champions è vero ci entriamo con tre giornate anticipo è vero facciamo senza cristiano ronaldo però ragazzi dai è un altro campionato così anche no champions league tre anni che usciamo gli ottavi due anni che arrivi quarto in serie a tre anni che esce gli ottavi in champions discorso giovani per fortuna è venuto fuori miretti nelle ultime partite però quanti mesi è ancora che andavamo a dire dietro a dire che miretti avrebbe dovuto giocarne un po di più come l'anno scorso quante volte abbiamo detto che piuttosto che far giocare ram sei ci stava a far giocare fagioli che è venuto in serie a con la cremonese la juventus al di là di quelli che sono gli allenatori fa fatica a fare questa cosa con i giovani e li butta nella mischia sempre verso la fine della stagione lo stesso zanimacchia con sarri un altro di quelli promossi con con la cremonese di fagioli fagioli l'anno scorso ha fatto 20 minuti in serie a e 60 70 in coppa italia con una squadra di serie b come la spal ragazzi noi noi non riusciamo a portarci a casa mai niente di costruttivo per il futuro e questa cosa mi manda nei matti io spero che adesso con la juventus che arrivate in semifinale di out league e con l'under 23 che sta giocando un playoff di serie c si possano anche accorgere che probabilmente questo discorso che stiamo portando avanti da anni di cercare di far girare i ragazzi prima in serie b poi in serie a e poi forse quando hanno 22 23 anni possono arrivare la juventus possa cambiare perché poi l'italia non va ai mondiali da due anni da due edizioni a questa parte e perché poi quando vai a giocare in champions tante altre squadre che hanno anche un background differente perché magari non sono in crisi come in crisi le vive da due anni a questa parte riescono a buttare dentro un ambiente sano dei giocatori che non vengono distrutti dall'ambiente perché anche qui adesso io aspetto la prima gara che mi retti sbaglia per leggere i commenti perché ormai si va a fazioni e c'è gente che in questo momento non ha coraggio di dire che allegri ha fatto una stagione brutta c'è gente che mi dice ma cosa poteva fare di più allegri ma cosa vuol dire cosa poteva fare di più allegri ma ci stiamo rendendo conto che siamo la juventus ci stiamo rendendo conto che negli ultimi dieci anni abbiamo vinto nove scudetti ci stiamo rendendo conto che nelle ultime 11 edizioni abbiamo vinto uno scudetti perché quest'anno non lo vinciamo ci stiamo rendendo conto che lo stesso allegri ha vinto 11 trofei alla juventus in cinque anni ma ci stiamo rendendo conto di queste cose o no ci stiamo facendo andare bene tutto ci stiamo facendo andare bene i quarti posti da due anni a questa parte perché non vogliamo assolutamente dire che gli allenatori non hanno avuto errore ma certo la dirigenza non fare gli giocatori non sbaglia ragazzi se l'allenatore la dirigenza i giocatori non sbagliano vinci il triplete tutti gli anni vinci il triplete tutti gli anni poi ovvio che vai ad analizzare i percorsi ma i percorsi che sta facendo la juventus da qualche anno a questa parte non stanno mantenendo le aspettative di quelli che sono stati gli anni precedenti di juventus ergo si sta lavorando male su tutti i piani siamo arrivati a mettere in discussione che non si può assolutamente dire che non si sta lavorando bene e no ma lo sanno internamente ma secondo voi loro si fanno lì a fare una riunione e dicono beh prossimo anno no guarda non cambia niente da tutto bene sarebbero dei folli così come sarebbero dei folli a dire se allegri vince la coppa italia lo confermiamo perché comunque la coppa italia se no lo mandiamo a casa ragazzi non si fa così cioè non si ragiona così dovessero ragionare così perdere tutta la fiducia in assoluto da chi esce da chi mi fa questo discorso e siamo arrivati a giustificare l'ingiustificabile e a sperare che la juve perda perché perché abbiamo delle posizioni predefinite su quelli che sono i tesserati della juventus ragazzi per fortuna non è tutto così è per fortuna c'è una gran parte che è la più grande parte della community che ragiona secondo i binari logici e cioè sperare che la juventus vinca che poi debba uscire uno entrare quell'altro noi ci focalizziamo sui singoli noi dovremmo focalizzarci sulla juventus ti fiamo la juventus ti fiamo allegri ti fiamo agnelli ti fiamo vlaovic chi ti fiamo io ti fò la juventus poi mi innamoro dei tesserati della juve quando le cose vanno male e mi gira le balle ovviamente quando le cose vanno meno bene poi io non sono uno di quelli che vuol puntare il dito e qui la ragazzi quando le cose vanno male poi alla fine dell'anno bisogna tirare le somme e quindi questa stagione della juve è brutta con o senza la coppa italia vogliamo farla proprio terrificante tremenda aberrante schifosa o vogliamo almeno gustarci non lo so un dolcetto uno zuccherino che ci permette di dire però almeno siamo riusciti a festeggiare una coppetta che dici te è vero niente di che però piuttosto che niente è mai un toast